benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui sulla plancia di comando dell'incrociatore italiano zara signori classico matchmaking sfigato tier 9 comportaerei siamo praticamente bottom tier e la wargaming ha pensato bene di farci spawnare sul lato debole a sinistra con davanti la pomer tier 9 la georgia la malfi e due cacciatorpedinieri noi comunque cercheremo di vendere cara la pelle signori in questi giorni il nostro canale di youtube compie un anno infatti è partito tutto circa un anno fa il primo di novembre con una recensione dell'incrociatore a gorizia che è un tier 7 premio un fratellino tra l'altro dello zara e arriviamo proprio a questa data anche se in realtà abbiamo passato il compleanno di qualche giorno con la recensione del suo fratello del gorizia ovvero lo zara che tra l'altro dà il nome proprio la classe di incrociatore costruita nel 1930 barra 31 come potete dire ci siamo portati subito in una posizione piuttosto difensiva questo perché la malfi ci sta spottando ma soprattutto ci sta spottando il jervis che è lì poco più avanti tra l'altro è abbastanza ironica questa cosa andiamo il jervis davanti il jervis è a tutti gli effetti la nave che ha dato il colpo di grazia allo zara vero il 29 di marzo del 1941 poi tratteremo la storia dello zara come potete vedere la nostra formazione è all'inizio abbastanza timida ma il dd francese venderà cara la pelle anche perché è un giocatore se non sbaglio dei surf che sono comunque un buon clan una specie di mezza fusione tra orca e suri cerchiamo un colpo di sapo sul jervis non sbaglio qualcosa troviamo direi che ho trovato qualcosa si quasi 4k e ora la malfi deciderà di andare in questa manovra che noi non comprendiamo il black line frattente ha finito il jervis io ho detto attenzione adesso guardate bene quanto danno riusciremo a fare con la prossima salva di sap sulle sovrastrutture della malfi questi canoni 203 della della zara sono completamente diversi rispetto a quelli del trento hanno una balistica migliorata 900 metri al secondo colpo è molto più teso e fa molto più male quasi 8k e mezzo più le tramvate probabilmente della pomerlo della giorgia alle nostre spalle signori lo zara è un incrociatore appunto con 37.100 hp con danno riduzione sui torpedo del 19 per cento sullo scafo direi più che buono intanto diamo il colpo di grazia al scellerato con la malfi ha una cintura corattata di 150 mm molto più forte rispetto a quella da 100 mm del trento veramente una delle migliori armature per questo tier e ha tra l'altro un ponte corattato centrale da 25 mm che lo rendono piuttosto unico al tier 7 la sua capacità di manovra con la bandierina a bordo può sfiorare i 34 nodi con un interessante raggio di virata di 580 metri in soli 9 secondi e mezzo di risposta del timone in maniera efficiente al 100 per cento quindi è veramente un timone super quello dello zara e non abbiamo ragazzi montato alcun miglioramento dal punto di vista dei moduli per quanto riguarda le sue capacità di mimetismo sono diciamo discrete diciamo sufficienti ecco 12 km 200 metri via acqua e 6 km 300 metri via bene ma non benissimo ecco perché è un incrociatore da media lunga distanza e non da prima linea o da combattimento ravvicinato quello che noi stiamo facendo adesso è molto molto rischioso per essere un incrociatore che gioca contro due corattate che sono molto più grosse di noi ovviamente abbiamo la straordinaria cortina fumogena che infatti si attiva per 40 secondi fa dei puff ogni 10 da mezzo chilometro quindi vi permetterà di muovervi facilmente e anche di disingaggiare come in questa circostanza state sempre molto attenti quando sparate perché se c'è una nave vicina a voi dalla cortina vi vedranno anche se avete aperto il fuoco all'interno della cortina fumogena lo scan in questo caso è piuttosto distante ma se fosse stato tipo a 6 chilometri 6 chilometri e mezzo sicuramente ci avrebbe visto e probabilmente la pomer ci avrebbe semidistrutto per quanto riguarda poi la sua ricarica 170 secondi classici tre a bordo se avete il quattro a bordo se avete super intendo il comandante che tra l'altro vi faremo vedere a fine partita sentiamo lo strambazzare della giorgia che ci supera tra l'altro quel ragazzo lì di un clan greco se non sbaglio farà un'ottima partita e sarà la prima la prima nave in classifica al termine del match qui il classico colpo sculato tedesco guardate un po trova l'angolo perfetto per cita dell'arcia poppa con un colpo singolo c'è una roba proprio guardate la giorgia neanche lei ci fa male c'è proprio un colpo sculatissimo a quasi 16 chilometri da parte della bb tedesca tra l'altro non fa dei canoni primari la sua arma migliore parliamo un attimo di questi canoni perché sono pazzeschi 4 torri binate da 203 millimetri capaci di sparare ogni 14 secondi e mezzo con un brandeggio ottimo di 23 secondi a 180 gradi e una dispersione di soli 134 metri a 16 chilometri e 100 la gittata è buona e anche migliorabile con lo scout che abbiamo appena attivato e tra l'altro è incredibile la velocità di colpi appunto 900 metri al secondo riuscirete a denneggiare efficacemente sparando sulle sovrastrutture anche le battesci più resistenti e anche quelle che vanno in allontanamento come sta facendo la giorgia che sta cercando di scappare ad un destino che ormai è quasi inevitabile per quanto riguarda invece la sua ha il suo apparato siluri che la differenza dal gorizia perché gorizia al solar la zara invece monta i siluri due lanciatori tripli uno per lato con classiche testate da 533 millimetri fino a 12 chilometri per soli 51 nodi ottima l'autonomia di questi siluri purtroppo molto scarsa la velocità sarà molto difficile colpire qualcosa se non in casi abbastanza eccezionali per quanto riguarda l'antierea bene ma non benissimo a batterie da 20 37 e 100 millimetri capaci di sprigionare quasi 200 danni continuativi senza alcun upgrade e quasi 1200 di danno flak quando l'aero entra nella vostra macchia nera che fate in area il classico danno radiante da esplosione questo è un po lo suo apparato antiero per il resto il consumabile che vedete a destra io lo preferisco al fighter perché secondo me appunto l'aeroscout è molto più utile anche perché con questi colpi non è così difficile colpire i target nemici e anche quando vanno in fuga sono particolarmente veloci come la georgia che è una delle battesheater 9 più veloci del gioco e quindi secondo me il file lo scout a bordo è veramente ottimo comandanti ho giocato solo sette partite con questa nave negli ultimi due mesi nella scorsa settimana questo perché comandanti ho cercato di trovare un matchmaking dove venivo messo veramente in difficoltà abbiamo fatto risultati anche decisamente migliori rispetto a questa partita ma ho voluto portare questa per due motivi il primo perché ce la porteri e il secondo perché giochiamo contro i tier 9 ed è una cosa che ho notato molto spesso ultimamente il fatto che giocando tante partite del tier 7 beccate spesso le navi tier 9 contro ed è un qualcosa che può dare molto fastidio lo zara secondo me ancora ancora riesce in qualche modo ad adattarsi alla partita dipende molto dalla mappa altri incrociatori o altre batteshe non possono fare altrettanto specie le batteci che soffrono molto di penetrazione contro le navi tier 9 tra l'altro guardate bene la posizione che adesso andremo a prendere perché riusciremo a sviluppare quasi il doppio danno che abbiamo fatto fino adesso sfruttando lo spotting e quell'iceberg che c'è al centro del cap di b sparando dentro c è una posizione molto interessante che potreste copiare con altri cruiser giocando in maniera difensiva quando il nemico è sbilanciato a destra partiamo un attimino la storia dello zara costruito presso i cantieri in liguria nel 1930 ai cantieri otto varato nel 31 è diventato subito capo squadriglia della sua formazione la prima squadriglia incrociatori con base a taranto e ha partecipato alla seconda guerra mondiale dopo la battaglia infatti di punta stilo è stato spedito insieme a una formazione pesantissima comprensiva anche della battesci vittorio veneto per cercare di intercettare una formazione nel mediterraneo con a bordo niente che poco di meno che l'ammiraglio canningham inglese una leggenda dei mari e prima che i servizi segreti italiani facevano pena gli inglesi riuscirono a decifrare le nostre intenzioni e anticiparono le manovre italia a questo punto venne attaccata da una porta aerei che se non sbaglio era di lucas classe illustrius se non sbaglio e venne attaccata e quindi i swordfish mandarono a segno alcuni siluri contro la nostra corazzata a quel punto l'ammiraglio decide di rispedire indietro la formazione che cominciò a tornare verso l'italia purtroppo per noi l'incrociatore pola se non sbaglio venne danneggiato e rimase indietro a quel punto l'ammiraglio decide di spedire indietro un gruppo di formazione comprensivo di 4 cacciatori pedinieri e 2 incrociatori pesanti tra cui lo zara e il fiume per cercare di andare a soccorrere il pola gli inglesi erano dotati di radar ed erano super addestrati nel combattimento notturno a 10 km circa dall'incrociatore italiano gli inglesi grazie al radar posto a bordo della Valiant una delle tre battleship nelle acque insieme a Cunningham che era a bordo della Warspite intercettarono la nave ferma ed erano convinti che fosse la battleship italiana in realtà era un incrociatore quando si misero sulla fiancata di questa nave a circa 6 miglia più o meno 10 km alcuni cacciatori pedinieri inglesi illuminarono i target italiani e a quel punto si scatenò all'inferno in soli 4 minuti arrivarono qualcosa come oltre 15 salve contro l'incrociatore zara a bruciapelo e la nave rimase immobile cominciarono a detonare bombe santa barbara insomma fu un macello e alla fine arrivò il gervis che lanciò una salva di siluri due dei quali andarono a segno sulla zara che colò a picco in pochissimi minuti dei quasi 1100 a bordo circa 900 a 873 se non sbaglio persero la vita in quella circostanza quella notte vennero affondati il fiume il pola lo zara più due cacciatori pedinieri italiani gli inglesi persero due swarfish e tre morti oltre che a un leggero danneggiamento di un incrociatore leggero gli italiani persero tre incrociatori pesanti due cacciatori pedinieri 2500 morti oltre 1170 prigionieri ripescati dal mare un bilancio allucinante tanto che gli inglesi lo definirono lo definiscono ancora oggi il massacro la mattanza di capo matapan guardate un po' adesso comandanti siamo qua con lo zara appunto siamo riusciti a sparare da invisibili ma siamo rimasti con solo i 4000 hp ma guardate come sfruttando lo spotting della porta aerei e della georgia che è in push insieme al back lane a destra che sta facendo da scout riusciamo in qualche modo a sparare contro la degros che ora sta accorciando verso di noi andiamo rallentato perché lei tra poco aprirà il fuoco non vogliamo dargli una posizione di vantaggio cominciamo con la cortina fumagginella ovviamente sparerà a caso però occhio perché spesso ci prendono guardate un po' infatti ci hanno preso le capacità di tiro ormai dei giocatori nemici sono arrivate a livelli assurde a volte ti prendono anche quando non te lo aspetti comandanti ci stiamo disimpegnare guardate un po' la georgia continua a spottare la degros quindi in questo caso possiamo tranquillamente spostarsi a sinistra potevamo anche lanciare i siluri ma avevamo paura di centrare il primo po' il giocatore grico con la georgia quindi decidiamo di non lanciare niente anche perché ci aspettavamo che la degros in realtà andasse avanti e si portasse verso la nostra porta aerei e invece no resterà lì praticamente a combattere a corto a corto yard con la battleship americana anche perché la bomber sta intelligentemente chiudendo a sinistra quindi li stiamo praticamente chiudendo in un sandwich mortale andiamo perso il backland che non si sa per quale motivo è andato a suicidarsi contro le secondarie della degros e quindi anzi della georgia no no della degros proprio della degros e quindi niente a questo punto aspettiamo e vediamo un po' cosa fanno i nostri alleati comandanti tra l'altro a fine video oltre a farvi vedere i risultati faremo anche un piccolo confronto con gli altri incrociatori tier 7 giusto per farvi vedere che effettivamente lo zara è una buonissima nave se la mettiamo a confronto con le altre navi delle linee del tier 7 parlo ovviamente di un confronto con gli altri incrociatori qua la lexington sta navigando verso nord ma qua abbiamo una doppia scelta o andare sulla lexington cercare di chiuderla anche se la nostra porteria sembra stia facendo un ottimo lavoro oppure continuare a fare danno sulla degros decidiamo di restare qui anche perché quella nave non si sa per quale motivo andrà praticamente contro gli scogli in realtà probabilmente ha virato in questa maniera per evitare gli sciluri della pomer ma anche se si è presa qualcosa come 20.000 in pochissimi secondi ha scelto il male minore almeno secondo lui ma se in questa posizione non è così facile danneggiare le sovrastrutture della battleship tedesca anche perché queste SAP hanno sì lo stesso calibro ad esempio di un Venezia ma hanno la stessa penetrazione cambiano infatti da tier a tier molto spesso comunque il nostro amico Lucy ormai è condannato qua eravamo indecisi di tirare sulla porteria tirare sulla degros ci siamo messi in una posizione tale dove possiamo difendere il cap e allo stesso tempo sparare su qualcosa che c'è a nord di C o quello che c'è a sud di C e alla fine sarà la pomer con il secondario tirare giù con la nave a questo punto la nostra partita praticamente ormai è finita il comandante non è un punteggione anche se comunque alla fine finiremo con quello che è due volte e mezzo quello che è la media del danno dello Zara sul server europeo che è 41.000 finiremo infatti a fare il nostro classico centello che per i tier 7 incrociatore contro i tier 9 è una partita ragazzi di tutto rispetto direi che possiamo anche passare ai risultati post contro questi praticamente sono i risultati della partita ve li faccio vedere eccoli qua il nostro classico centello ci hanno trovato due colpi ci fosse stato a bordo e Sansonetti avremmo anche attivato il bonus questo invece è lo screen della partita terzi il Vakran è arrivato poco più sopra noi grazie alle basi conquistate e a quel danno magari un po' di più sul Javis e sulle scane per il resto buona la partita come detto prima ottima la partita della Georgia che ha fatto valere il suo maggior peso e il suo maggior calibri in partita lo stesso non vale per la Georgia nemica che è stata piuttosto pacchiana nei movimenti comandanti passiamo ora al confronto un interessante confronto con le altre navi di linea del tier 7 ho scelto come sfondo il Belfast non a caso il re degli incrociatori tier 7 l'incrociatore tier 7 più forte ragazzi del gioco tier per tier ragazzi Average ho scelto New Orleans e Surrey secondo me non ci sono navi cruiser di linea insufficienti al tier 7 a differenza del tier 6 che ha delle navi veramente pacchiane come ad esempio il Trento il tier 7 secondo me offre dei buonissimi standard per quanto riguarda gli incrociatori delle linee New Orleans e Surrey secondo me si meritano la sufficienza buoni sono lo Zara la Girie e lo Shorts lo Shorts in realtà in passato meritava anche di stare nel top ma dopo il nerf che c'è stato o meglio il rework di miccia inerziale o inerzia fuse penetra molto di meno soprattutto è costretto a scegliere tra la maggiore penetrazione dei suoi cannoni o gli incendi e quindi fa molti meno danni rispetto a una volta Algeria e Zara invece hanno questi due hanno tre molto forti tra l'altro hanno una somiglianza al francese e all'italiano sono dotati infatti entrambi di ottime armature questa cosa un po' è una somiglianza infine abbiamo i migliori che sono le York il Fiji l'Elena e il Mioco il Mioco incendia da far paura 5 torri bilate una grandissima potenza di fuoco siluri che vanno molto lontano un ottimo disturbatore l'Elena potenza di fuoco smisurata 5 torri trinate può sparare anche dietro gli isolotti incendia da far paura consumabili utili molto agili nel movimento un incrociatore pazzesco il Fiji il migliore incrociatore da prima linea del tier 7 un incrociatore Stealth danni spaventosi con le AP con le sue AP particolari un vero e proprio incubo per ridestruire nemici consumabili importanti a bordo può ripararsi una cortina formogena lunga una nave veramente molto molto interessante che è veramente è uno dei migliori tier per tier della linea leggera inglese un'ottima nave e infine il mio preferito lo York tedesco signori 210 mm di cannoni al tier 7 4 torribinate armatura leggerina ma sonar potenti a bordo cannoni veramente molto potenti tra l'altro ricaricano in solo 12 secondi ottimo brandeggio di meccanica anti-aerea forte è veramente una nave che apre in due letteralmente gli altri i cannoni più grossi per un cruiser a questo tier veramente top class grande nave a me è piaciuta parecchio l'abbiamo rigiocata ad agosto ci siamo divertiti veramente molto con questa nave questa è un po' la situazione interessata quindi potete vedere lo Zara è più che competitivo tra l'altro il comandante ci tenevo a finire con una cosa sto cambiando la schedule su Twitch per chi mi segue durante la settimana ho intenzione infatti di dormire le live mi sono reso conto che con il lavoro ora che sono cambiati gli orari è sempre più difficile stare dietro arrivo a casa veramente che sono distrutto la sera faccio molta fatica a fare uno streaming tutte le sere del lunedì al venerdì magari chi ragazzi non fa un cazzo tutto il giorno può anche giocare tutti i giorni può anche essere sempre concentrato portare contenuti continuamente io ragazzi esco praticamente alle 7.30 torno a casa intorno alle 5 5.30 dipende dal traffico e quindi arrivo a casa vi arrivo a casa la sera che sono veramente cotto anche perché faccio tutto il filotto la pausa dura pochissimo in ufficio quindi capite anche voi che arrivo a casa talmente stressato che alla fine faccio fatica a giocare tutti i giorni immagino che lo capirete chi lavora sicuramente lo capisce quindi faremo streaming a giorni alterni quindi magari una settimana faremo lunedì mercoledì venerdì e domenica e un'altra faremo il martedì il giovedì e il sabato dipenderà quando partiremo ma comunque il video uscirà voi lo vedrete tra qualche ora domani in realtà martedì diciamo che martedì magari faremo una live poi salteremo mercoledì cominceremo giovedì insomma faremo giorni alterni quindi se non mi vedete la sera costantemente perché è la sera di pausa comandati credo sia la cosa migliore per riprendere fiato e anche per portare avanti nuovi contenuti allo stesso tempo non stressarsi troppo anche perché la situazione nelle random battle di questo gioco è sempre peggio è sempre peggio veramente questo gioco è incredibile il calo di qualità dei giocatori della player base è pazzesco e veramente non mi diverto quasi più ragazzi quando gioco nelle random battle è veramente stressante io lo faccio solo per portare dei contenuti perché altrimenti le random non vale nemmeno la pena giocarle secondo me comandanti sono veramente diventate veramente brutte durano troppo poco durano troppo tanto campano troppo campano poco insomma non ci sono più di equilibri la wargaming sta facendo un disastro da questo punto di vista mi dispiace a me molto perché sono affazionato a questo gioco ma veramente questo 2020 dal punto di vista dei contenuti è stato veramente l'anno peggiore per quanto riguarda la wargaming mi dispiace molto di questo ragazzi da Blizzard è tutto spero che il video comunque l'abbia trovato utile e interessante noi ci sentiamo venerdì con la seconda parte dei cruiser americani in recensione reparto pesante il leggendario USS Des Moines da Blizzard è tutto ciao ragazzi e buona caccia